Vai, video, video, pensa a qualcosa la zamba posteriore, sì Infatti io non l'ho capito Sì E' maschio, non mi ricordo chi è perché così non mi viene in mente, era un bel cane E' un porcellino, porchi, porchi, euro lo sto chiamando porchi, dobbiamo far vedere la foto che gli ho fatto, sembra porchi pig Ciao, tia, sei buona tu? Sì, tutto brutto, mamma mia, come sei brutto Tia Sabri, con l'accarezza non poco Mi sembrava un coniglio, mamma mia Guarda, 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 guarda Sì, guarda Oh, vada Sì Sì Facendo il video Gira la lampa, eh, ma è un fendino freddo proprio qui Eh, certo, senza vedere, so che sono lì Mi sto dimettendo Ma no, devo chiedere, se stanno con gli altri termini nel box Eh, vero Sì